Buonasera e ben ritrovati a tutti, ben ritrovati qui presenti in sala se già eravate qui per il seminario precedente, benvenuti a quelli che si sono collegati online e benvenuti a tutti quelli che sono qui ora per la prima volta. Benvenuti alla serie di seminari organizzati da Sibgio, li organizziamo dal 2020 online e annualmente anche qui a Vicenza Oro. Grazie a Italian Exhibition Group, grazie a Marco Carniella e alla sua squadra, grazie per aver invitato Sibgio a presentare il proprio seminario qui oggi. Grazie per l'ospitalità. E poi per chi sta festeggiando il Capodanno cinese, i migliori auguri per il prossimo anno. Sono Edward Johnson di Jamfields e sono abitualmente moderatore della nostra serie di seminari Jury Industry Voices, ma oggi il mio ruolo è diverso. Mi limiterò a presentare la nostra moderatrice, Lisa Königsberg di New York di Initiatives in Arts and Culture, iniziative nell'arte e nella cultura. È arrivata direttamente da New York per essere con noi oggi e per avviare questa conversazione con un panel meraviglioso. E anche con Sara Fabergé che si è collegata con noi online. Grazie Sara. Quindi questo è tutto. Quello che devo fare stamattina, do la parola a Lisa. Grazie di cuore per la tua collaborazione e per tutto l'incoraggiamento e il supporto che da sempre dai a Sibgio. E continueremo senza altro questa collaborazione. Grazie Edward per le tue cordiali parole. Grazie alla Fiera di Vicenza per l'ospitalità che è veramente molto apprezzata. A questo punto diamo un'occhiata a questo panel eccezionale che è qui con noi oggi. Presenterò i nostri speaker rapidamente. Alice Ciccolini che viene da Londra, designer, i cui gioielli utilizzano la tradizione e i mestieri delle tradizioni persiane dello smalto giaipuri minacari o chamlevé. Questa è la definizione della tecnica minacari. Su questo torneremo comunque. Quindi una competenza tradizionale che proviene dalla Persia e che è stata tramandata da generazione a generazione negli ultimi 200 anni. Poi abbiamo con noi Sara Fabergé, direttrice dell'Heritage Council e direttrice dei progetti speciali di Fabergé. Enzo Liverino, alla mia sinistra, dietro del Greco, proprietario di un'azienda a gestione familiare specializzata nel Corallo, che si è impegnato a conservare il retaggio storico della sua famiglia e della sua città nell'elaborazione del Corallo. L'ha fatto anche creando un museo. E infine ho il piacere di presentarvi Alice Vanni o Alice Vanni, che ricopre il ruolo di direttore e manager di sostenibilità e compliance presso Italpreziosi. Quindi un panel veramente di eccezione. E andiamo quindi al dunque, affrontiamo subito le tematiche che vogliamo dibattere insieme. La sostenibilità tramite una transizione di successo. Ora, la sopravvivenza è l'elemento cardine della sostenibilità. Avere una successione significa realizzare un aspetto della sostenibilità. E quindi voglio fare la prima domanda a Enzo. Enzo, vuoi spiegarci qual è l'approccio generazionale della tua azienda specializzata nella lavorazione del Corallo? E quindi spiegaci un po' come è stata creata l'azienda dal tuo nonno nel 1894. Il Corallo. Tutti sanno che il Corallo porta fortuna. E proprio per questo motivo noi abbiamo avuto la fortuna di creare questa azienda il mio trisnonno ha sempre goduto di una buona reputazione perché dal secolo scorso abbiamo sempre collaborato con Cartier, Bulgari e altri grandi nomi. Quindi la conoscenza passò dal bisnonno al nonno al papà. Io, purtroppo, non ho mai conosciuto mio nonno però ho imparato moltissimo da mio padre. Mio padre mi ha insegnato tutto tutto quello che io so del Corallo delle tecniche di lavorazione quindi tutta questa conoscenza mi è stata tramandata e questo mi ha dato la possibilità anche di viaggiare in tutto il mondo e questa mia grande passione l'ho potuta tramandare ai miei due figli che lavorano con me in azienda e ho quindi avuto l'opportunità di diffondere ulteriormente la conoscenza del Corallo. Bene, più avanti ritorneremo su questa grande eredità Sara, dopo circa cento anni che hanno incluso anche la rivoluzione russa se tu dovessi parlare dell'identità della tua azienda pensando ai diversi aspetti che avete toccato quindi diciamo che i componenti della famiglia Fabergé hanno dovuto iniettare sempre nuova linfa nell'azienda quindi vorrei sapere da te qual è il tuo ruolo oggi grazie vorrei rilasciarmi a quello che ha appena detto Enzo avere l'ispirazione da parte della propria famiglia è assolutamente fondamentale certo ci siamo ritrovati separati per diversi motivi dal nostro settore io sono cresciuta con un papà entusiasta e per fortuna mi ha insegnato molte cose di Fabergé ma anche di altri diversi settori quindi un legame trasversale mio padre lavorava con l'azienda stile Fabergé, Fabergé Style perché soltanto nel 2007 che abbiamo riottenuto il marchio che abbiamo rilanciato nel 2009 perché il 2008 non era l'anno ideale per il lancio di un marchio di lusso e quindi io ho seguito anche il panel precedente e ascoltando le conclusioni di quel seminario devo dire che questo riassume moltissimo quello che io vi voglio dire perché l'importante è trovare il proprio ruolo guidati dalla propria passione certo è sempre il proprietario del marchio che deve rilanciare l'azienda però lo deve fare lavorando con esperti lavorando con persone che non solo sanno quello che stanno facendo ma che hanno una passione per Fabergé perché come molte altre aziende di gioielleria la passione è fondamentale quella che determina la personalità del marchio chi siamo che cosa facciamo quindi bisogna lavorare con una squadra che condivida questa passione e capire qual è il nostro ruolo cioè che cosa noi possiamo offrire a quel marchio Sara questa è una risposta che guarda veramente al futuro ritorneremo a parlare del tuo rapporto con il DNA Fabergé se così lo vogliamo chiamare e come tutto questo sia stato tramandato certo passione impegno retaggio approfondimento di tutti questi valori ma devo dire che mi sento anche molto fortunata perché ho qui con me tre donne donne eccezionali e questo non è fare pink washing anche perché nella selezione dei panelist non abbiamo preso in considerazione l'aspetto quota e rosa comunque passiamo ad Alice o Alice Vanni che è effettivamente l'altra rappresentante dell'ultima generazione pensando alla mamma e pensando ai tal preziosi che cosa ci puoi dire dell'uguaglianza di genere mia madre Ivana Ciabatti che molti qui probabilmente conoscono fondò nell'84 i tal preziosi il campo in cui ha lavorato che riguarda prevalentemente l'upstream della catena del valore è sempre stato un campo a predominanza maschile quindi all'inizio del suo viaggio ha incontrato innumerevoli difficoltà perché dobbiamo anche prendere in considerazione la situazione di allora ma mi ha sempre detto e lo ripete in tutte le associazioni che sono le donne che spesso si sottovalutano e che si pongono delle barriere e degli ostacoli quindi eliminando questo primo ostacolo con determinazione si può superare tutto ed è questo quello che lei ha fatto quindi non sottovalutiamoci mia madre infatti è diventata una delle donne tenute maggior considerazione nel mercato del refining e upstream e quindi effettivamente ha ricevuto anche dei premi per il suo lavoro nella sostenibilità allora se avete un sogno e siete determinate potete arrivare dove volete detto questo mia madre ha utilizzato tutto quello che era necessario per realizzare uguaglianza di genere in azienda ma anche all'esterno dell'azienda nella supply chain e per quanto riguarda l'impegno in comunità nell'azienda ve lo posso dire in termini concreti siamo 42 donne e abbiamo un'ottima rappresentanza femminile nel management e nella leadership dato che mia madre è attualmente la presidente della nostra società le donne all'interno della società e l'uguaglianza di genere è stato uno dei punti principali quindi empowerment alle donne con formazione istruzione la possibilità di migliorare costantemente la propria carriera e per quanto riguarda la maternità per esempio dall'anno scorso abbiamo un counseling per le donne che rientrano dopo la maternità per far capire loro che è come ottenere un master quando si va in maternità cioè aumenta la propria capacità ecco come funziona quindi la nostra azienda per quanto riguarda la comunità la mamma ha sempre sostenuto le iniziative attraverso i talpreziosi che contrastano la violenza contro le donne assegnando anche dei premi alle donne che hanno il coraggio di ribellarsi noi facciamo moltissima formazione per quanto riguarda la nostra supply chain e cerchiamo anche di analizzare la percentuale di donne che lavorano nella filiera questo poi viene pubblicato nel nostro Sassainability Report quindi siamo molto attivi in questo campo bene poi ritorneremo anche su questi punti dopo aver sentito anche gli altri panelist Alice che ci ha dato degli esempi di questo lavoro splendido puoi confrontare la tua esperienza come designer curatrice nello UK e in India con degli artigiani come vedono in maniera diversa il ruolo quando si tratta di trasferire per la prossima generazione le proprie skill rispondo pezzo per pezzo e il mio ruolo come curatrice è una cosa chiaramente che ho fatto quando avevo 35 anni e i curatori o curatrici sono lì proprio per poter proteggere tutelare ma anche promuovere chiaramente l'heritage quindi la tradizione l'eredità raccontavo quindi delle storie con diciamo un legame o lungo o corto alla contemporaneità cioè cosa era e poteva essere contemporaneo nel mondo di oggi lavoravo per un'organizzazione che si chiama British Council un'organizzazione non governativa che fa parte del governo britannico all'epoca e il mio compito per loro era quello di raccontare delle storie sulla Gran Bretagna ma soprattutto attraverso la lente del design una storia sulla identità culturale attraverso gli oggetti questo mi avevano chiesto la mia visione di questa idea di successione quindi come dire viene veramente da questo riflesso che ho speso ho passato come curatrice conversazioni note sulla identità geografica le conosciamo tutti si parla tanto del fatto che lo champagne è una cosa che è particolarmente legata alle regioni e a chi le controlla ma ogni settore chiaramente definisce il contenuto di questa regione in base alla propria percezione ho avuto il privilegio di lavorare veramente con artisti e con artigiani come quelli che mi hanno formato e veramente mi hanno formato nel linguaggio della gioielleria cioè quali sono i nostri ruoli e posti senza di questo come pratica come design l'idea della sostenibilità che riguarda soprattutto il mantenimento il preservare la vita delle skill è tanto importante quanto appunto del materiale sostenibile etico l'argomentazione è basata sulla supply chain perché senza le competenze le skill che senso ha avere non so dei metalli diciamo nel fair trade delle gemme per esempio pietre preziose che siano etiche la tendenza forse come outsider francamente i miei genitori erano insegnanti d'inglese quindi c'è le skill e comunque le competenze nella gioielleria ci saranno sempre uno pensa a questo il nostro compito è fare in modo che appunto il materiale che presentiamo sia più acquisito in maniera etica io francamente avendo lavorato in posti come l'India non potevo crederci perché tante cose sono fatte su piccola scala tanti piccoli artigiani che hanno il loro piccolo laboratorio e lì la loro sostenibilità in India c'è abbastanza lavoro per mio figlio per fare in modo che possa pensare che valga la pena continuare in questo settore e temo di dire che in molti casi la risposta è no a questa domanda allora a meno che come settore cominciamo veramente a raccontare delle storie l'importanza del mantenere in vita le competenze allora sarà molto difficile perché perderemo tutto un segmento di quello che per noi è la nostra identità culturale c'è un po' una differenza tra le due aree dove lavoro per esempio nel Jaopor con questo tipo di tradizione artigianale appunto e quindi io sono stato quasi adottata lì dentro adesso lui ha due figlie ma sicuramente nella sua pratica si vede come l'ultimo comunque della famiglia che chiuderà questo lavoro mentre il mio master craftsman per esempio che per 50 anni ha lavorato lì sta formando due donne che poi prenderanno in mano il suo business ed è molto come dire orgoglioso di poter sostenere la sua attività in questo modo sì certo la mia famiglia non è nel settore del gioielleria anche qui è una cosa che io penso di cui sono convinta che questi talenti queste competenze queste capacità se vogliamo appunto sono delle capacità regionali eccezionali devono ampliare il nostro concetto di risorse naturali per essere incluse perché se perdiamo queste skill perdiamo qualche cosa che è così prezioso e che magari non recupereremo e quindi in linea con questo pensiero mi chiedo se ritornando al paradosso del futuro ma guardando alle spalle la tradizione Enzo quali sono le skill quali sono le qualità trasferite dalle generazioni precedenti a te e che tu oggi tieni care veramente nel tuo modo di lavorare e come sei intendi formare la prossima generazione ricordo che quando avevo 7 8 anni dopo lo studio mi piaceva vedere sempre la fabbrica vedere nel laboratorio i lavoratori gli artigiani come tagliavano come perforavano il corallo ho avuto fortuna perché io ero figlio del proprietario quindi mi hanno insegnato non erano gelosi di me all'epoca ricordo che si perforava il corallo manualmente come lo fanno ancora in Bahrain sulle pere naturali a 18 19 anni mio padre mi mandò in Giappone per comprare perle e coralli vedi quindi in quel periodo la nuova tecnologia che i giapponesi utilizzavano per perforare appunto le perle e poi l'ho rimportata da noi in Cina poi ho visto come facevano a arrotondare più facilmente più rapidamente e ho portato anche questa tecnologia a casa mia a quel punto avevo capito che abbiamo bisogno della nuova tecnologia mio padre mi ha dato l'opportunità di introdurla in fabbrica avevano bisogno le persone che sapessero utilizzare questa nuova tecnologia e mio padre a quel punto disse ok perché non apriamo una scuola e mio padre a quel punto scoprì che cioè no ha fondato in realtà la prima scuola per insegnare ai giovani a lavorare il corallo e io vorrei incentivare questa cosa dovremmo continuare a farlo perché soprattutto dal business dei coralli noi abbiamo un'ottima reputazione rispetto e ci dà anche la possibilità chiaramente di guadagnare e di mettere dei soldini in banca quindi ma dobbiamo restituire qualcosa alle persone che appunto lavorano il corallo e la torre del greco dobbiamo restituire qualche cosa a queste persone e questo è il motivo per cui lui ha deciso di aprire questa scuola la vita mi ha dato l'opportunità di incontrare le persone giuste come Gaetano nel business dei coralli ho potuto quindi farlo crescere e vedere anche il suo futuro ritorneremo tra un istante nel corso della conversazione al paradosso la fusione proprio il punto d'incontro il crocevia tra passato e futuro nel tuo business attore del greco Sara la domanda che ti faccio è ma tu come fai a conservare per esempio l'artigianità di oggi se volessi mantenere per esempio trasmettere non so l'arte di Fabergé come ti concilia questo o concili questo con la storia con eventi storici ed altri grazie allora nella prima parte del rilancio di Fabergé abbiamo dedicato moltissimo tempo alla ricerca di persone che ancora conoscevano i vecchi mestieri soprattutto le tecniche di smalto la tecnica che è sinonimo di Fabergé non è l'unica tecnica utilizzata ma fa veramente parte del nostro DNA quindi abbiamo cercato proprio le persone che fossero le migliori in questo campo e siamo riusciti a collaborare con un'altra azienda di antica tradizione tramandata dal nonno al nipote una società tedesca che non aveva avuto quel periodo di interruzione che noi avevamo subito e che continuava a utilizzare queste tecniche di smaltatura abbiamo lavorato anche con altri esperti del settore questo per noi è stato molto importante non voglio sembrare pomposa però io credo che il nome è Fabergé indipendentemente da tutto quello che è successo indipendente da me o quello che facciamo oggi è un nome che ha una sua vita abbiamo fatto anche un documentario e le persone spesso sono liete di lavorare con Fabergé perché ammirano il nostro passato e vogliono questa trasposizione del passato nel futuro mantenendo gli standard di creatività e di competenza tecnica Alice stava dicendo quanto sia importante conservare i gioielli è giusto conservare i gioielli ed è giusto conservare le capacità tecniche le competenze il mestiere perché è questo che alimenta la creatività che consente alle idee di moltiplicarsi in un mondo che è un mondo di corporate che ovviamente hanno come obiettivo il profitto ovviamente questo è l'obiettivo del business ma allo stesso tempo si possono sostenere gli elementi intangibili e la creatività perché Fabergé in passato non era nota solo per l'artigianalità al massimo livello ma per quelle scintille che sono le idee che emanavano da questa azienda e quindi è molto bello poter celebrare la creatività ascoltarci gli uni gli altri e lavorare insieme per trovare nuove idee e comunque noi siamo partiti proprio con la ricerca di queste persone laddove si trovino sono persone che sono in armonia con noi che capiscono quello che noi stiamo cercando di raggiungere oggi beh questo panel è stato veramente selezionato nel modo ideale soprattutto come prosieguo del seminario precedente Fabergé Fabergé rappresenta moltissimo ha una vita propria le Maison quello che oggi si chiama Brand beh Maison e Brand hanno un retaggio meraviglioso ricchissimo e vivono quindi anche in modo indipendente nella mente dei consumatori ad Alice Vanni voglio chiedere ci potresti descrivere in un modo leggermente diverso come la mamma ha imbevuto la propria azienda di questi valori e magari parlandoci un po' di più degli altri aspetti oltre a quello legato al genere grazie Elisa ora per parlare dei nostri valori devo dire che la mamma è sempre molto orgogliosa di parlare del proprio passato del passato della sua famiglia la mamma non proviene dal settore dell'oreficeria o della gioielleria la sua famiglia è infatti era una famiglia di agricoltori nella campagna toscana e le difficoltà provate durante la sua gioventù hanno plasmato il suo carattere la sua determinazione i valori che la famiglia le ha insegnato sono stati fondamentali dignità e rispetto questi sono i due valori base che hanno determinato la visione di tal preziosi la mamma ha trasmesso questi valori alla famiglia a me visto che adesso io mi occupo di tutti gli aspetti sociali perché ha deciso che serviva una persona dedicata che si occupasse di sostenibilità e degli obiettivi sostenibili e che portasse avanti la missione quindi la dignità la dignità dell'uomo è fondamentale perché è correlata ai diritti umani diritti dell'uomo e poi il rispetto nei confronti dell'ambiente pensate la mamma è cresciuta nella campagna toscana che è nota per la sua bellezza e quindi ha sempre desiderato conservare quell'ambiente per le generazioni future mantenendolo in tonso e quindi questo riguarda anche la collaborazione con i fornitori perché noi sappiamo che l'impatto è provocato prevalentemente da queste catene di valore dalla supply chain soprattutto se pensiamo al clima quindi ha lavorato sodo in questo campo quando ha iniziato a viaggiare e quando si è resa conto che cosa stava dietro alla catena dei fornitori ha deciso di agire in questo campo e nonostante fosse una donna in Toscana e in Italia ha iniziato a collaborare con il numero più alto possibile di persone per garantire un miglioramento da questo punto di vista e questo si riflette perfettamente nella visione della nostra azienda Alice tu come vedi il tuo ruolo per quanto riguarda il trasferimento della conoscenza sto parlando di Alice Ciccolini in questo caso e nel tuo rapporto con gli artigiani come agisci presenti dei concetti delle idee da indicazioni su come eseguire la tecnica o presenti delle idee che sono già radicate nella cultura e nel retaggio allora io ho un stretto rapporto con gli artigiani con quel lavoro e l'idea è sempre quella dell'evoluzione barra rivoluzione quindi non è sufficiente conservare la conservazione la preservazione può anche uccidere un'eredità vitale e tangibile bisogna sempre trovare modalità di evoluzione quindi ecco che le famiglie sposano tecnologie innovative e tutto questo affina ulteriormente anche le capacità artigianali io lavoro con i miei smaltatori per cercare di capire che cosa si può fare con lo smalto vitreo o con lo smalto lacca per esempio è molto importante capire il valore dei materiali e delle competenze quindi anche la definizione dei colori lo smalto marezzato l'effetto marmo diciamo che io mi alimento dell'energia degli artigiani nel contesto indiano vedo che uno degli errori che si fanno quando si cerca di lavorare con quegli artigiani è imporre i propri concetti tieni fai questo gli artigiani indiani si chiedono ma a che cosa serve non lo capisco non riesco a comprendere quindi ancora una volta la parola è rispetto io ho trascorso anni in India cercando di capire da dove arriva il mio artigiano perché è un artista non è una macchina e quindi ho cercato di capire qual era la sua esperienza la pittura sull'oro la mia esperienza era diversa e quindi abbiamo iniziato a condividere la nostra esperienza ad avviare una collaborazione tutto quello che abbiamo fatto insieme nasce da questo e quello che io chiedo comunque è di utilizzare nuovi colori pattern che vengono da tutto il mondo che non sono solo indiani cercare di capire il rapporto tra la gemma e lo smalto lo smalto visto come un contenitore della gemma e quindi diciamo che è uno scambio collaborativo e rispettoso alla ricerca di innovazione Sara vuoi aggiungere qualcosa a quello che abbiamo appena sentito in riferimento alla situazione di Fabergé certo abbiamo molto in comune ma sempre comunque questa idea diciamo del rapporto della costruzione del rapporto è centrale è questo in tutto il nostro business capirsi ascoltarsi capire da dove si viene io ho lavorato molto nell'apprendimento nello sviluppo e ho imparato tante cose quindi usare le skill preservarle e poi aiutare queste persone a cercare di capire appunto quello che è il tuo obiettivo esattamente quello che dici tu questi rapporti di collaborazione quindi sono importantissimi è stato importante per mio bisnonno anche per noi e per me oggi e questa collaborazione va fino al punto di lavorare con le persone che stanno creando il gioiello per te tanto con il team di design e poi passare queste storie veramente come brand ambassador cioè che poi coinvolge i nostri partner oppure i clienti negli eventi privati raccontando loro queste storie narrando i rapporti interpersonali come le cose vengono fatte le tecniche le complicanze in modo appunto da capire esattamente bene che non si tratta soltanto di un numero di gioielli di valore o di meno valore o comunque di pezzi messi insieme ma capire nella creatività la storia che si nasconde dietro un design così prezioso la storia dietro e a questo punto avere veramente un gioiello che ha un senso e che sarà la loro tradizione la loro eredità che possono mantenere in maniera sostenibile per generazione a venire ed è questo secondo me quello che rende tutto possibile questi rapporti ci vuole un pochino un pizzico di psicologia in tutto questo ma è particolarmente necessario soprattutto quando si lavora con gli artisti gli artigiani le donne che anche loro hanno le loro idee lo stesso mi spiace ritorno un attimo alla domanda di prima però Elisa però anche nel nostro business la cosa che ho cercato di proteggere è non volevo le persone che entrassero e uscissero dicendo fantastico possiamo fare veramente delle cose grandi mettiamo tu sopra anche il mio progetto no no non vogliamo dobbiamo avere il coraggio di dire noi non vogliamo avere la tua idea che magari viene da un'altra azienda sopra Fabergé Fabergé deve essere Fabergé oggi così come non così bloccata da qualche parte o polverosa in un museo Fabergé vuol dire essere viva attuale con questo sottile equilibrio tra il passato e il futuro per fare in modo di muoversi in maniera sostenibile diciamo che mantenga alto proprio nome adesso vorrei passare la parola anzi passare a un tema che sembra essere un po' un ombrello per tutta la mattina questo concetto diciamo di sostenibilità o di pratica sostenibile la successione di successo permette una impresa di essere sostenuta nel proprio business e di esistere di avere la propria vita e di andare avanti oggi è più evidente la necessità tuttavia di essere molto consapevoli quando si parla appunto di problemi di responsabilità sociale ambientale o pratica di sostenibilità ciascuno di voi ha il proprio modo di impegnarsi su questi temi vorrei risalire indietro più in là con te Enzo qual è il rapporto del successo della tua attività del tuo business e il tuo livello di impegno come presidente di Sibjo della Coral Commission di Sibjo e lavoro che avete fatto appunto per quanto riguarda i corali ambientali grazie bella domanda ho avuto la fortuna devo dire in premessa che ho avuto due figli che lavorano nella mia azienda uno è qui presente Andrea loro mi hanno dato l'opportunità di far sapere alla gente cosa è un corallo perché è così colpevole e sostenibile Gaetano Cavaliere mi sembra non so quanti anni fa ha detto che ha costituito la commissione proprio dei coralli e nell'arco di pochi anni due anni abbiamo fatto Blue Book con regole nomenclatura classificazione trattamenti spiegazioni e la classificazione dei delle otto specie di corali preziosi una mappa voglio dire tantissime informazioni veramente devo ammettere secondo me sono stato molto fortunato nella mia vita perché anzitutto ho avuto l'opportunità di incontrare Gaetano e poi Ken Scarrett che mi ha aiutato tantissimo nella Coral Commission della commissione dei coralli mi ha aiutato molto a creare il DNA dei coralli attraverso cosa? attraverso l'università di Napoli per poter veramente offrire al 100% le possibilità ai laboratori delle gemme di identificare l'origine di queste specie grazie a Ken poi abbiamo fatto anche il grading dei colori dei coralli tutta una serie di altre informazioni comunque che sono emesse stiamo lavorando sulla guida dei coralli ma tutte queste cose ci danno la possibilità l'occasione di fare un'azione educazionale trasmettere divulgare delle informazioni a coloro che poi sono chiamati a decidere molti prima avevano timore di usarli i coralli preziosi perché c'era sicuramente troppa poca chiarezza tra quelli che sono preziosi o meno o comuni abbiamo CBGO SIGIO ci aiuta tantissimo quindi quello che chiaramente tutti seguono le loro istruzioni sicuramente e questi hanno ripristinato la fiducia nei coralli preziosi per sottolineare la differenza tra i coralli preziosi che sono profondamente preziosi e quelli invece di comuni la commissione dei coralli quattro anni fa credo a un congresso di Bogota ha deciso perché le regole eccetera erano già state fatte il Blue Book esisteva già allora a questo punto siamo andati lì per aiutare appunto i coralli di reef di barriera corallina e tutto questo lavoro insieme a al centro di certificato di Monaco Motacarlo con l'aiuto e il patrocino del principe Alberto e altri Gem Lab era volto a comprendere appunto come studiare i coralli preziosi per capire anche meglio i coralli di reef per la sopravvivenza sì una delle cose che siete riusciti a fare è stato avere accesso a scorte massicce di coralli che avevano centinaia di anni allora questo come ha migliorato il suo business è vero mio padre acquistò nel 60 la più grande azienda di corallo che sia mai esistita è la Raffaele Costa di Genova l'acquistò e ci valero sei mesi per trasferire da Genova a Napoli queste quantità gigantesche di corallo che abbiamo tenuto in deposito e ancora oggi lavoriamo questi coralli che hanno una storia perché non stiamo parlando di una banca di corallo ma di un deposito di coralli con strati di corallo ad un'altezza di 30 metri e ogni strato ha dei coralli diversi quindi possiamo capire se uno strato di corallo è stato caratterizzato da eventi vulcanici che ne hanno determinato le caratteristiche quindi utilizzando oggi questi coralli portando l'arte contemporanea per la prima volta al corallo insieme insieme al numero uno al mondo l'artista contemporaneo numero uno che esista al mondo Ian Fabre ecco insieme a lui siamo riusciti a realizzare degli oggetti che riscrivono la storia del corallo Sara James Fields come si colloca per quanto riguarda il sourcing responsabile nei confronti di Fabergé allora noi siamo molto fortunati perché James Fields è proprietario dell'azienda Fabergé ma noi abbiamo la nostra personalità è evidente e il sourcing responsabile di James è una cosa che ci avvantaggia moltissimo perché abbiamo avuto l'opportunità di dire ai nostri clienti qual è la provenienza delle nostre pietre from mind to market dalla miniera al mercato e questo grazie a questa eccellente partnership che noi abbiamo James Fields ovviamente riguarda il sourcing responsabile e considera anche l'impatto sulle comunità nelle aree di provenienza James Fields è molto forte in queste zone quindi per Fabergé aver avuto questa opportunità quindi l'opportunità di ottenere pietre meravigliose la cui provenienza è nota beh questo è stato veramente una porta aperta per il futuro parlando di comunità e di impatto sulle comunità accendiamo un'altra dimensione degli SDG che riguarda la parità di genere a cui già avevamo fatto accenno prima quindi chiedo ad Aless Vanni qual è l'impegno specifico di i talpreziosi quindi qual è l'impegno specifico che tua madre ha avviato relativamente a questa questione allora come dicevo all'inizio per la mamma non è stato facile all'inizio proprio perché era una donna ma quando poi ha iniziato a parlare di una supply chain etica nel 2005 beh c'erano persone che erano d'accordo con lei che credevano in questi progetti ma non erano molte è stato veramente difficile coinvolgere un alto numero di persone perché spesso molti si chiedevano ma non si può fare business in questo modo ma come dicevo prima la mamma è molto determinata e non si è fermata e quindi nel 2007 è stata formalizzato il primo progetto di chain of custom con una comunità in Honduras un progetto molto importante anche perché è stato il primo passo in questa direzione e le persone che non le credevano inizialmente hanno iniziato a vedere le cose in modo diverso mi piace raccontarlo perché oggigiorno fortunatamente tutti parlano di sostenibilità di reputazione della sua importanza per il marketing ma la sostenibilità è una cosa nella quale si deve credere la mamma ci crede da sempre e ha sempre lottato per questo affrontando moltissime difficoltà quindi questa prima comunità ha garantito accesso a tecnologia made in Italy quindi i materiali venivano lavorati solo con l'acqua senza sostanze chimiche la comunità è stata adottata di scuole dove i bambini potevano ricevere un'istruzione molto spesso si tratta di strutture in aree remote dove i bambini non possono avere accesso alle scuole perché sono troppo distanti e quindi le famiglie hanno bisogno di una scuola in prossimità e lei ha creato la scuola ha creato una clinica e ha creato anche eventi intrattenimento per esempio partite di calcio laboratori creativi questo è stato il primo esempio che risale al 2007 oggi come oggi stiamo parlando di successione ora io ho cercato da parte mia di trovare anch'io il partner più adatto per creare queste comunità e questi progetti in tutto il mondo laddove è possibile farlo e oggi stiamo ancora lavorando ai progetti di comunità in collaborazione con stakeholder di alto valore come per esempio l'Ox le Nazioni Unite le organizzazioni non governative istituzioni di diversi paesi questi progetti sono cruciali perché se pensiamo agli obiettivi dell'ONU li dobbiamo considerare in modo olistico se un progetto come Planet World ha l'obiettivo di eliminare il mercurio dalla supply chain questo porta comunque a empowerment delle donne perché nelle comunità con cui noi lavoriamo abbiamo progetti di questo tipo si può lavorare sulla biodiversità perché uno dei progetti di Planet Gold riguarda la creazione di arnie in prossimità delle miniere quindi in poche parole un coinvolgimento a 360 gradi con la supply chain e una partnership perché da soli noi non possiamo fare molto ma insieme possiamo fare molto di più ed è importante parlarne in una fiera dell'oro come questa perché i gioiellieri sono i partner per noi più importanti perché i gioiellieri che acquistano l'oro o l'argento possono essere orgogliosi di dire al cliente finale guarda da qui viene l'oro del tuo anello guarda che cosa stiamo facendo per questa comunità ecco questo è stato l'inizio in poche parole Ale tornando a te e ai tuoi artigiani degli smalti e ammenacari allora pensando al gap legato al genere e pensando all'obiettivo numero 5 che riguarda la parità di genere secondo te la cultura che ruolo gioca nella capacità di tramandare cioè qual è l'impatto se ci si trova in una cultura in cui c'è una certa reticenza a lasciare in eredità a una donna per esempio un'impresa oppure anche solo un mestiere diciamo che un po' questo può andare in contrasto con la cosiddetta saggezza familiare ma diciamo che in realtà il mio artista ha due figlie non ha nessun figlio e diciamo che non è che lui insegni alle figlie perché alla fine si sposeranno e quindi si occuperanno di portare sia la competenza nelle mansioni familiare che la competenza nell'ambito aziendale nella famiglia con la quale si uniranno quindi la tecnica del closonet che è un po' più semplice non viene insegnata loro non gli insegna come fare chaplevé che è una tecnica un po' più complessa e allora come riuscirà a trovare il modo di garantire una successione se non insegna alle figlie e tra l'altro il suo mestiere è molto interessante perché ha scatole che contengono per esempio anche disegni fatti dal trisnonno di cui va estremamente orgoglioso diciamo che c'è una pletora di informazioni una ricchezza di conoscenza che non è ancora andata perduta da generazione a generazione anche se suo padre è morto piuttosto giovane comunque lui può imparare da quello che vede dal retaggio concreto che ha nelle sue mani quindi è molto importante riuscire a capire come possono essere tramandate queste competenze tutto avviene in questo momento in modo disorganizzato Mario Boccellati ci ha parlato dell'accademia diciamo che le famiglie rappresentano una grossa fetta del nostro settore allora che cosa possiamo fare come possiamo indicare la via per poter tramandare la propria cultura la propria tradizione questa è una domanda ancora un po' aperta secondo Ed Johnson il mio predecessore stiamo arrivando alla fine del nostro tempo quindi l'ultima domanda che ho per voi magari con una versione un po' diversa con una storiella se potete rispondere brevemente se ci sono poi delle domande da parte del pubblico ci rivolgeremo al nostro pubblico una delle cose che emerge con evidenza è il rapporto tra un futuro dinamico e la consapevolezza dei patrimoni culturali delle risorse ambientali socioambientali con la vostra situazione incredibile qual è la legacy diciamo nel business dei coralli Enzo il museo che hai creato ci puoi dare qualche notizia il museo è stata un'idea di mio padre ha preso la collezione privata diciamo del nonno che era stata messa da parte viaggiando insieme con mio padre siamo andati in Giappone Hong Kong in Cina insieme negli Stati Uniti e a questo punto abbiamo partecipato dalle aste ogni volta che trovavamo non so un corallo lo compravamo ecco perché abbiamo avuto la possibilità di espandare aumentare la nostra collezione privata poi abbiamo cominciato a collaborare con alcuni creatori di pezzi d'arte con dei diamanti oro coralli abbiamo quello che avevamo prodotto lo ricompravamo e quello che facciamo adesso per esempio con gli alfabri noi produciamo tantissimi pezzi di lavoro d'arte e li ricomperiamo per il nostro museo ma c'è una cosa molto importante da studente non amavo storia la storia non so avevo la sensazione che fosse qualcosa di che non avesse la sua vita poi negli ultimi due anni durante la pandemia non avevo molto da fare e ho trovato tutti gli archivi storici della società Costa la più grossa core company basata a Genova ecco mio figlio abbiamo trovato delle cose incredibili fatture dello scorso secolo lettere corrispondenza documenti una cosa incredibile veramente un mondo strepitoso eravamo a contatto appunto con la fondazione di Napoli il Pio Monte della Misericordia dove abbiamo donato qualche corallo pochi il laboratorio digitale beh con loro abbiamo deciso che noi avremmo donato loro tutti questi documenti loro chiaramente avrebbero dovuto rimettere un po' a posto perché erano molto antichi cioè all'inizio dello scorso secolo e poi le avrebbero digitalizzati e pubblicati online in modo da permettere alle persone di fare veramente una ricerca storica la storia potesse essere cambiata grazie a questo il museo quindi da un lato è qualcosa di vivo c'è una sezione di quello che è stato fatto in Sicilia qualche secolo fa quello che è stato realizzato a Napoli per esempio poi oggetti antichi moderni della Cina dal Giappone dal Tibet Nepal da tutti da tutte le parti del mondo e questo è molto importante cioè riuscire a far sapere alla gente come è stato utilizzato il corallo questo appunto anche da ispirazione ai designer tra l'altro ricordo che una volta un designer famosissimo è venuto a trovarmi lavorava per pomelato Sergio Silvestri Sergio arrivò e mi disse puoi lasciarmi un paio di ore qui dopodiché ne uscì con alcune idee cioè questo è anche una foto di ispirazione a questo museo anche al designer il designer è molto importante dappertutto tutto il mondo ha bisogno di designer grazie Enzo Sara passo a te la parola a questo punto come patrimonio tradizione di Faberge cosa vorresti vedere e come questo si riallaccia alla storia che Faberge ha da raccontare ma noi siamo semplicemente dei curatori di un grande nome ce ne prendiamo cura e ce ne prendiamo cura bene nel modo migliore e quindi cerchiamo di portare avanti quelle competenze che potrebbero altrimenti andare perdute dimenticate non più reiterate quindi si tratta delle tecniche degli smalti sostenendole con lo storytelling e scrivendo un nuovo capitolo ecco quello che stiamo facendo stiamo scrivendo un nuovo capitolo della storia di Faberge e l'importante è che le persone sappiano che Faberge non è morto ma che ora continua ad evolversi che questi mestieri vengono ulteriormente affinati che continua la creatività con l'obiettivo di ispirare altri designer affinché seguano queste orme e quindi noi siamo veramente proprio dei curatori ci prendiamo cura di queste eredità per poterla lasciare alla prossima generazione e tra l'altro mio figlio rappresenta la prossima generazione speriamo che continui ad essere ispirato da Faberge e che non sia una cosa polverosa o museale bene la domanda a Alice Ciccolini chi è responsabile secondo te della successione del tramandare di queste competenze chi quindi può garantire il passaggio di queste eredità menacari in Indie significa segreto è una cosa meravigliosa lo smalto quindi è una conversazione tra la persona e il gioiello ed è una conversazione segreta quindi questa è un'idea che si trova in tutto il mio lavoro che lo permia completamente però l'importante è che gli artigiani non siano più un segreto io ne parlo sempre sono fondamentali sono presenti nel mio profilo pubblico e nel mio lavoro come designer quindi io parlo sempre dei miei artigiani quelli britannici e quelli indiani ma chiaramente io non posso posso solo contribuire a garantire la sopravvivenza di questa piccola comunità non so se posso dare una risposta ma da ex diplomatica posso dire che l'importante è sempre aggregare le persone per essere certi che la narrativa della pratica non vada perduta ma si contemporaneizzi quindi noi dobbiamo parlare del gioiello ricordando a tutte le persone in tutto il mondo che le competenze tecniche e artigianali sono una parte fondamentale per la quale tra l'altro loro pagano un prezzo perché anni e anni fa tutti pensavano ma tu sei matta nessuno pagherà per le cose che tu stai facendo invece le persone lo fanno anche se il mercato è estremamente confuso per quanto riguarda la percezione del valore quindi dobbiamo ricordare alle persone che quello che loro comprano sono delle competenze generazionali che vengono trasferite da una persona all'altra e che tutto questo richiede tempo e esige rispetto quindi un'aggregazione tra le persone questo appunto ricordando alle persone che il prezzo che pagano riguarda anche tutti questi anni che sono stati investiti per la creazione di una tradizione i valori sociali Alice vorrei concludere con te con una domanda specifica il progetto Rondine Cittadella della Pace il progetto di Peace Building come lo vedi nel contesto del retaggio di Italpreziosi grazie per la domanda Rondine Cittadella della Pace per me per la mamma per Italpreziosi e per molti molti anni è stato un progetto cruciale stiamo ancora combattendo per far sì che il progetto si allarghi si estenda quando noi facciamo business non è solo una questione di supply chain di input specifici in realtà quello che è importante è la visione olistica della sostenibilità e creare la pace è uno degli SDG il Peace Building e noi stiamo supportando Rondine Cittadella della Pace che è un progetto di Peace Building ad Arezzo e che è stato anche candidato per il premio Nobel della Pace nel 2015 di che cosa si tratta? si tratta delle nuove generazioni che provengono da paesi che sono zone di conflitto noi cerchiamo di far vivere insieme questi giovani per far capire loro che il concetto nemico è solo una percezione questo progetto riconosciuto dalle Nazioni Unite Ivan la mamma è la presidente degli imprenditori per la pace perché sì ci possono essere anche degli imprenditori che lavorano per la pace e che danno la possibilità ai giovani di ritornare poi nei loro paesi di origine per diffondere il concetto dell'importanza del dialogo e del Peace Building quindi grazie di cuore per avermi fatto questa domanda e grazie per aver citato rondine a conclusione di questo seminario nel periodo che stiamo vivendo un periodo in cui c'è un'urgenza di pace non possiamo dimenticare di parlare di pace e dobbiamo sostenere le iniziative che diffondono la pace quindi per tutti i presenti che sono interessati a sapere di più di questo progetto e interessati a supportare la nostra azione di pace sono a vostra disposizione per darvi più informazioni Italpreziosi lavora moltissimo su questo piano da un supporto finanziario e sta cercando anche di creare dei programmi di internship delle borse di studio perché stiamo parlando di persone che vengono dai paesi che hanno maggiori difficoltà in questo momento e spesso sappiamo che anche le nostre materie prime vengono da zone che non sono libere da conflitti allora noi ci dobbiamo impegnare olisticamente su tutti i fronti in tutti i campi per quanto riguarda i diritti dell'uomo ma anche per quanto riguarda la pace grazie grazie mille allora abbiamo cercato di analizzare quattro problematiche fondamentali una riguarda la successione e il suo legame con la sostenibilità quindi come riuscire ad attuare una transizione e una successione di successo ovviamente esiste un rapporto tra successione e successo riuscire a realizzare aver successo nella realizzazione poi abbiamo analizzato la trasmissione dei valori e il rapporto tra la successione che guarda al futuro e il retaggio l'eredità in cui si affondano le radici il terzo argomento che abbiamo trattato riguarda il rapporto tra l'idea di un'organizzazione sostenibile e i principi delle pratiche responsabili relativamente alla società e all'ambiente con aspetti anche questi della sostenibilità e il quarto punto riguarda il rapporto tra il futuro e l'eredità culturale e la nostra percezione individuale di eredità sia per l'entità che rappresentiamo sia per il nostro contesto personale abbiamo due minuti di tempo e prima di vedere se ci sono domande da parte del pubblico voglio cogliere l'occasione per ringraziare Sibjo per averci dato questa bellissima opportunità per me è la prima volta un'opportunità incredibile di far parte di questa comunità così vivace e spero veramente di continuare a contribuire continuare ad apprendere e a partecipare in modo efficace ed effettivo in futuro quindi grazie di cuore Ed, Steve e se ci sono domande prego ponetele grazie lisa grazie lisa vorrei innanzitutto complimentarmi con Sibjo per aver scelto queste tematiche credo che siano tematiche che devono essere effettivamente affrontate sempre quando abbiamo la possibilità di incontrarci perché alla fin fine questo settore sta al centro delle nostre attività familiari quindi è importante capire come attuiamo la trasformazione come evolviamo e abbiamo visto abbiamo sentito da tutti voi che quando si parla di successione si parla anche di trasferimento della conoscenza e di competenze specifiche potremmo ascoltare per ore questo dibattito perché è un argomento veramente importantissimo quindi grazie di cuore mi è piaciuto moltissimo e spero che questa sia una call for action cioè che si continuino dibattiti di questo tipo e che si intraprendano azioni concrete Sibjo fa parte anche della Watch and Jewel Initiative 2030 abbiamo qui con noi Alice di Italpreziosi che fa parte di questa iniziativa e devo dire che anche noi abbiamo affrontato questi argomenti non solo a livello di brand ma anche a livello di scuole non solo scuole in Italia ma in tutto il mondo proprio per cercare di trovare un approccio unitario per affrontare queste problematiche grazie di cuore siete state veramente una fonte di ispirazione grazie per queste parole così cortesi io effettivamente mi sono sempre interessata queste tematiche io ho raccolto la sfida e immagino che anche Sibjo continuerà su questa strada grazie grazie di cuore per i tuoi commenti ce ne sono altri o altre domande bene grazie di cuore per essere stati con noi questa mattina ora è il mezzogiorno in Italia non so che ore siano dove voi vi trovate comunque grazie di cuore per aver trascorso con noi questa mattinata e se ci state seguendo online vi auguro un ottimo resto della giornata e grazie per aver per averci ascoltato e spero che tutto sia stato di vostro gradimento grazie a tutti Grazie a tutti